Aula consigliare di Palazzo Margherita all'Aquila, tutta al femminile in occasione della giornata internazionale della donna. Amministratrici locali provenienti da diversi comuni, di diversi schieramenti, tutte insieme per dialogare e condividere anzitutto il loro bagaglio di esperienze. E poi anche le proposte utili per aumentare sempre più la qualità e incisività dell'azione istituzionale. Ancora la mattinata è servita per gettare uno sguardo d'insieme su quale sia ad oggi il ruolo e il protagonismo della donna nella politica locale e quali siano le prospettive affinché le voci femminili nell'ambito della politica locale possano continuare sempre più a crescere in competenza e autorevolezza. Presente anche Rasha Youssef, presidente dell'Associazione di Solidarietà con il Popolo Siriano. L'iniziativa Le Amministratrici del Territorio Si Incontrano rientra nel ventaglio degli eventi del Marzo in Rosa che sono organizzati dal Comune dell'Aquila. Quanto e perché è importante questo appuntamento? È molto importante, lo abbiamo voluto concentrare senza alcuna pretesa di dare indicazione sul tema del protagonismo delle donne e il ruolo negli enti locali perché questo protagonismo voglignato, conquistato, finalmente c'è ma pare che non basti ancora perché le donne faticano ancora ad esserci in grande rappresentanza in quei posti e in quei luoghi in cui si decide chi è, che deve fare, che cosa. Quindi c'è una festa che ci ricorda quanto valiamo, che vuole raccontare quanto valiamo perché le donne oggi si battono sul presupposto e nel campo del merito ma pur essendo arrivate siamo ancora in cammino, quindi una storia ancora da scrivere tutte insieme.